Spacciavano droga tra i giovanissimi dell'Aquila. Cocaina, marijuana e dashish entravano anche nelle scuole del capoluogo. La polizia ha interrotto un traffico di sostanze stupefacenti a conclusione di una indagine che ha preso le mosse a metà del 2011 dopo alcuni controlli nei locali della Movida. L'operazione Spread, come è stata chiamata, ha portato all'arresto di 5 persone, tutte tra i 20 e i 30 anni, 3 in carcere e 2 ai domiciliari. Tra loro anche un albanese residente in città. Ordinanza di custodia cautelare anche per un connazionale irreperibile però avrebbe lasciato l'Italia dopo un provvedimento di espulsione del maggio scorso. I provvedimenti sono stati firmati dal GIP Giuseppe Romano Gargarella su richiesta del PM David Mancini. Denunciati a piede libero poi 11 ragazzi, tra cui alcuni minorenni. Per due di loro è già stato chiesto il rimio a giudizio.